Lunedì, martedì, mercoledì, gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio. Ciao amici, felis martedì, buon martedì a tutti, oggi come saben impariamo ascoltando dialogo, quindi ho pensato che in lugar di aburrirli, come si dice lunedì, come si dice martedì, osea, va a essere molto aburrido, in lugar di essere, ho di ascoltare questo dialogo, dove si parla di giorni di settimana e anche dei mesi, e poi andremo a prenderlo, però mirando già quali saranno i giorni festivi del 2021, io lo chiedo a sapere. Amore, quante ne abbiamo oggi? Boh, che giorno è? Martedì. Ok, è il 12 gennaio. Madonna, adesso quando saranno le persone ferie? Eh, se ne va a Pasqua. Quando cade prestanno Pasqua? Il 4 aprile. Oh mio Dio, tre mesi senza nessun ponte? Già. Ah... No, 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 no. sarà particolarmente lleno de puentes, molte fiestas caeranno il sábado. Che tal il calendario festivo in tuo paese? Ya puoi vedere? Hai alcune fieste in comune con Italia? Por supuesto che sì. Che altre fieste vanno a avere? Grazie a tutti.